Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare questo riff in slap del grandissimo Flea. Qua escono alcune particolarità del tipo di bassismo di Flea. Allora, innanzitutto viene molto utilizzato lo strappato, cioè il pluck, quello che nella trascrizione ti troverai come P-pluck, mentre invece l'altro suono dello slap è quello, il thumb, la T, fatto con il pollice che percuote la corda. Essendo un riff abbastanza melodico, fatto spesso insieme alla chitarra all'unisono, lui vuole far uscire un po' di più il suono del basso e quindi decide di strappare, ottenendo questo suono molto deciso. Quindi partiamo con il Fa diesis, poi c'è questa frase. Allora, partiamo con un altro strappato, sempre sul Fa diesis, con un pull-off, Fa diesis Mi. Poi andiamo ad appoggiare il Do diesis e diamo un colpo di pollice. Poi strappiamo il La acuto al tasto 2 della corda di Sol e finiamo di nuovo sul Fa con uno strappato. Potremmo anche finire col Thumb. A me verrebbe più da farlo così, però con il suo suono sembra più uno strappato. Finito questo, mettiamo ancora in levare, nella seconda battuta, il Mi al tasto 2 della corda di Re. Quindi la frase viene Fa, che tra l'altro parte in levare di ottavo. Tieni d'occhio il PDF che ti giro se vuoi. Un Pa Dopo, seconda battuta, partono dei levare di sedicesimo. Parte sul terzo quarto in levare di sedicesimo. Quindi il terzo quarto, uno, due, un Ta, parte sul levare proprio del terzo quarto. E andiamo a fare Fa diesis, La, Fa diesis. Un. Io conto sempre un, un. Finiamo poi sul Fa diesis tutti i colpi con il Thumb. Comunque tieni d'occhio sempre qua la partitura che ti allego. Poi per ripartire, mette questa ghost note fatta col Thumb, terza battuta, che cade poi sullo strappato di Fa diesis. Questa frase con il pull off iniziale. E poi ricorrente, infatti la vedi nella battuta 1, 3, 5 e 7. Quindi la prima parte rimane sempre uguale. Cambia sempre la seconda. Nella seconda, finisce sempre, comincia, scusami, con il levare di Mi, strappato. Poi abbiamo questa frase che denota già la particolarità del bassismo di Flea. Cioè, questo, lui strappa la nota, però va sempre a poggiare un ghost sotto, imbattere. E' molto spesso impercettibile questa cosa, però io sono sicuro che lui lo fa questo movimento, perché serve proprio per rimbalzare e curare bene il levare di sedicesimo. Le note che andiamo a prendere sono Do diesis, Si, La e Fa diesis. Dopo riparte sempre con una ghost più Fa diesis. Battuta 5 uguale alla 1, alla 3. Invece battuta 6 può assomigliare alla battuta 2, anche come note va a prendere Mi, Fa diesis, La e Fa diesis. Però qua attenzione al ritmo, quindi lettura ritmica parte non in levare di sedicesimo, ma in levare di ottavo. E quindi va a legare Mi e Fa diesis in maniera più rapida, due sedicesimi. Un, mentre prima era un, era tutto unta, 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 unta. Qua è un, ta, 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 ta. Un, la differenza è sottile, però c'è. Poi, ultima frase, parte sempre come al solito, con questo. Poi andiamo a fare una scalata, cioè partiamo sempre con la note in ghost a rimbalzo. Partiamo dal tasto 1, Re diesis, andiamo fino al Fa diesis. Quindi facciamo i tasti 1, 2, 3, 4. Poi ci spostiamo con il mignolo sul 7, quindi sul La acuto. E da qua torniamo indietro, cromaticamente, fino al tasto 1. Questo sarebbe difficilissimo, non avessimo il colpo in ghost note fatto prima. Me lo immagino senza questo rimbalzo. Cioè, si può fare, non è che non si può fare, però, secondo me, la resa sia a livello di precisione ritmica che di intenzione, soprattutto, sarebbe comunque diversa. Allora, con Moises, oggi uso, utilizzo Moises, la velocità è 91 bpm, quindi io ho levato il basso, ho tolto qualcosetta, si può mettere anche, ad esempio, il metronomo sotto. Rallentiamo un pochettino, ad esempio, mettiamolo a 80, e proviamo a suonarci una volta, mettiamo anche sotto il click del metronomo, vediamo cosa succede. Se vuoi, puoi provare a suonarlo con me. Allora... Allora... Come nota, finiamme, poi mettiamo ancora un re. non te l'avevo detto ma comunque c'è anche quella bene, ti ho fatto vedere più o meno tutto esercitati a velocità lenta cerca di leggere bene ritmicamente e rispettare thumb e slap se poi vuoi approfondire un pochettino lo studio dello slap ti consiglio di fare un giro sul mio sito ho scritto dei metodi costano anche molto poco easy slap per impostare bene e fare già tantissimi bei trucchetti e begli incastri io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti